Lavoro in corso alla marina per rimuovere la statua del bacio, curiosità, un po' di perplessità da parte dei cittadini. Cos'è successo, Sindaco? Allora, è successo che siamo stati contattati dalla proprietà che ci ha esposto la questione, ovvero che la statua era stata impegnata in un paese francese, non mi ricordo il nome, in occasione di una commemorazione sempre riguardante la guerra, e che quindi doveva essere trasferita in quella città. L'assessore Dantò che ha seguito la cosa ha anche provato a sentire se c'erano dei margini per trattenere la statua, anche pagando, però la proprietà ha espresso proprio questa questione, cioè la statua ormai era impegnata, non era una questione di soldi, eventualmente se rivogliamo la statua ce la riportano. Però mi lascia perplesso tutta questa animosità intorno alla questione, perché sì, è anche vero che noi come al solito abbiamo magari fatto un errore di comunicazione e potevamo avvisare prima, però se non è stato fatto è perché abbiamo tanti di quei problemi che stiamo affrettando in questi giorni che francamente, anche l'assessore, a me personalmente questa cosa non mi sembrava in cima alla lista. Aggiungo che io non ho visto nessuno stracciarsi le vesti perché la Rocca è in quelle condizioni, e quella sì è la storia di Citecchia, è in quelle condizioni da 30 anni e passa. Ho visto 40 persone alla presentazione del libro sui dipinti di Tarcisio De Paulis, non ho visto nessuno protestare perché le terme taurine sono anni che non vengono valorizzate come si dovrebbe, e sono sicuro che la maggior parte dei miei concittadini non sa neanche che sotto Corso Marconi c'è mezza città che attende anche quella di essere scoperta e che quella sì è un pezzo di storia di Citecchia. Quindi quello che dico io, prendiamo questo evento come un'opportunità, ovvero come l'opportunità di avere al posto di quella statua qualcosa di più bello e che rappresenti effettivamente la civita vecchiesità, che sia un biglietto di visita unico per la città, ed è quello a cui l'assessore Tantò stava lavorando. L'assessore aveva in mente un concorso artistico per sviluppare un'opera d'arte che abbia attinenza col mare, che abbia attinenza con Citecchia e con la sua storia. Secondo me quello sarà poi qualcosa a cui effettivamente affezionarsi, ma affezionarsi ad un'icona americana, io non sono un anti-americanista, però un'icona americana comunque di un paese che, diciamolo, ha lato pratico, ha raso al suolo Citecchia nei bombardamenti. Non mi sembra qualcosa per cui dover stracciare le vesti. Se ci si accusa di un errore di comunicazione, quello ci può anche stare. Però che dei consiglieri o ex consiglieri comunali mi vengono a dire che questa era una decisione che dovevamo assolutamente condividere con la città e non li ho visti parlare negli stessi termini in argomenti importanti, quale l'area metropolitana, francamente, dà il metro del livello politico della città.